Allora signora ci siamo, la Casa delle Donne l'8 di marzo prossimo sarà pronta, siete contente voi associazioni? Siamo molto contente anche perché sono passati 20 anni ma non abbiamo mai mollato perché questo obiettivo ci stava molto a cuore. Lavoriamo insieme da tanto tempo come associazioni e voi lo sapete però ci riuniamo anche come sede, come spazi perché non siamo tutte in via del Gambero, parte in via Canaletto, gli archivi sono in via Canaletto di molte associazioni e soprattutto questo luogo dove c'è anche una sala come avete visto, sarà un luogo molto importante per rafforzare questa unità che le associazioni delle donne a Modena hanno già dimostrato di saper costruire. Questo diventerà un luogo che è stato ampliato, diventerà un luogo dove le associazioni femminili si incontreranno, diventerà la Casa delle Donne che inauguriamo l'8 marzo 2019 perché è una grande occasione, è un significato, è un impegno, è una passione che vogliamo portare avanti come comunità modenese per cercare di continuare a tenere insieme una comunità che tutti insieme deve costruire il futuro e per noi le donne sono un riferimento straordinario della nostra comunità, sono la nostra comunità e soprattutto insieme sapranno valorizzare passione, servizio, assistenza e soprattutto nuove idee per valorizzare ancora il ruolo femminile della nostra comunità di Modena e non solo di Modena perché insieme dobbiamo costruire un futuro al nostro paese. E continua l'impegno quotidiano nel dialogo con le associazioni delle donne e anche nella creazione di un luogo unico. Ecco, in un momento in cui ci sono delle amministrazioni che le case delle donne le chiudono o cercano di chiuderle o hanno comunque delle difficoltà beh insomma ci sono anche delle amministrazioni che invece in questo credono e provano a trovare nuove soluzioni anche perché le stesse associazioni nella loro unità possono avere ancora più forza.